Musica Attento Alan, sto girando Ah, santo cielo È... è inimmaginabile È orribile Non riusciamo a capire il perché di questa spietata punizione Probabilmente è legata a qualche oscuro rito sessuale Ma noi non possiamo accettare gli aspetti primitivi di questa... giustizia Un'altra cosa è un'altra cosa Un'altra cosa è un'altra cosa Grazie a tutti. Grazie a tutti. Continua, continua a girare, Mark. Non smettere! Grazie a tutti. 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 a tutti. ? 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